Allora, con noi in diretta, per partita di Olimpico Rossano contro il Gioniterraneo, ecco, abbiamo con noi il presidente Acre, Piero. Piero, non so, grazie per l'invito, forse, però diciamo che è un invito per gli sportivi che ci seguono. E ti chiedo, oggi è una grande partita? No, vabbè, la Reggio Med, secondo la classifica, penso veritatamente, è una squadra fortissima. Noi, come abbiamo fatto a Corriano, come abbiamo fatto sempre, in tutti i campi ci giocheremo la nostra partita. Un danno a vincere, chiaramente, come penso faremo anche loro. Speriamo di riuscire vittoriosi da questa partita e poi vediamo che è da farsi. Una partita gestita bene, con un clamoroso errore dell'albitro all'ultimo secondo. Spero che queste immagini vadano al dirigente della classe arbitrale, perché non si può rovinare un campionato con un fallo clamoroso a centrocampo, un uomo a terra, all'ultimo secondo di recupero, dove speravamo tutti, sapevamo tutti che ci doveva essere un fischio dopo una partita equilibrata, giocata da ambo le squadre. E invece è successo che un arbitro mandato per una partita importante di questo genere crea un problema di un anno di sacrificio. Noi cercheremo di andare avanti fino alla fine, cercando di ottenere il massimo. Complimenti alla Rossanese che ha vinto e andiamo per la prossima. Noi ci crediamo, finché la matematica non dice il contrario, noi ci crederemo. Infatti senza nessun essere, come dire, sboroni o eccetera, anche qua veniamo per i tre punti, poi accetteremo il verdetto del campo, qualunque se sia.